Il coordinamento dei comitati e delle associazioni di Acre hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti al Palazzo Comunale per invitare l'amministrazione guidata dal primo cittadino Pino Capalbo a dare delle risposte concrete sullo stato di abbandono delle periferie del Comune di Acre nonché al ridimensionamento scolastico, alla crisi sanitaria del locale ospedale, all'aumento dei tributi, al servizio idrico e all'annosa realtà dell'impatto ambientale per la presenza di paleoliche a Serracrista e Serracapra Nel successivo incontro nella sala di giunta del Comune, il primo cittadino incontrando i rappresentanti delle diverse associazioni ha voluto puntualizzare punto su punto quanto deliberato in assemblea Per quanto riguarda le periferie è stato ricordato l'investimento della somma di circa un milione di euro per riqualificare la zona La Mucone Invece per il ridimensionamento scolastico è stato ricordato l'impegno del Comune per evitare disagi alla collettività per l'accorpamento di alcuni istituti Un provvedimento, quest'ultimo, non voluto dall'amministrazione ma dalla provincia di Cosenza Mentre è stata netta la presa di posizione riguardo dell'ospedale che nonostante le assicurazioni arrivate dall'assessorato regionale alla sanità ad Acre sono arrivati solo pochi medici cubani e il radiologo è presente solo un giorno alla settimana Per quanto riguarda l'aumento dei tributi locali un aumento dovuto soprattutto al maggior costo sostenuto per il conferimento dei rifiuti Per l'aumento della Tari invece il primo cittadino ha fatto sapere che ora non sarà più il Comune a gestire la riscursione del servizio ma toccherà alla regione Infine sulle pale eoliche ci sarà presto una conferenza di servizio per accertare il vero impatto ambientale dell'impianto Poi toccato ai rappresentanti dell'associazione che hanno chiesto al primo cittadino un incontro per esaminare insieme la documentazione e giungere ad un accordo comune per il bene della collettività di Acre